è stato bellissimo sicuramente contro due squadre sia Germania che Brasile sono due nazionali fortissime storicamente anche fortissime però secondo me ogni gol è uguale all'altro sì magari con la Germania è stato un l'ho sentito un po un poco di più perché era la semifinale di un europeo poteva essere con contro chiunque non era perché era la Germania no all'Italia come qualsiasi giocatore della nazionale di qualsiasi nazionale alla propria nazionale bisogna secondo me dare tanto perché ovviamente ti impegni anche nel tuo club giochi col cuore anche nel tuo club però la nazionale è un qualcosa di speciale quindi non so spiegare bene però è un qualcosa in più Stefano ha ragione perché siamo giovani ed è bello sia nel club ma soprattutto in nazionale che ci siano giocatori giovani e penso che può essere un nuovo inizio questo sì dopo l'europeo la penso la mia popolarità è diventata molto più più forte l'ho notato da come si comporta la gente normale per strada o anche quando fai allenamento e magari prima solo i miei tifosi mi volevano bene invece adesso anche grazie all'Italia anche tifosi di altre squadre cominciano a fare per me e questa è una bellissima cosa io non mi reputo né tra i più forti né tra i più scarsi io sono io vedo in me stesso miglioramento e cercherò di migliorare sempre di più ma comunque ringrazio chi dice questo ma non non giudico queste cose con la che dicono ma io non sono mai stato un montato se in questi giorni c'è un immagine di mario montato l'avete fatta voi non l'ho fatta io io ho fatto la mia partita col Brasile e ho fatto un gol col Brasile magari un fenomeno i grandi campioni sono sempre ben accetti in una squadra sicuramente sì sì il razzismo è un problema grande se non si combatte tutti insieme non si riesce a sconfiggerlo